Ciao a tutti gli amici di questo canale, oggi facciamo un episodio del podcast diverso, sarà un una tanto, ne prendiamo oggi poi non torneremo mai più su questo argomento, che è il calcio, perché comunque quello che si è visto ieri in Italia-Svizzera, o Svizzera-Italia direi, è una cosa indecorosa e non si può non parlarne. Io sono un tifoso, ho sempre tifato calcio a fine bambino, quello che ho visto ieri richiede delle spiegazioni, anche perché io ho una mia teoria che vorrei poi condividere con voi. Quindi voglio capire, voglio capire i perché di questa disfatta, perché questa è stata una disfatta totale, altro che una caporetto. E quindi vorrei capire insieme a voi i perché di questa disfatta, perché secondo me c'è qualcosa che a noi non viene detto e probabilmente non verrà mai detto. Facciamo un'analisi rapidissima di queste quattro partite sciagurate all'europeo. In ordine abbiamo incontrato l'Albania, primo tempo sufficiente, secondo tempo insomma eravamo già sotto il 5, e poi abbiamo incontrato Spagna, Croazia e la Svizzera. Ci hanno mangiati tutti i vivi. Ok, l'Italia non è più l'Italia che aveva Totti, Del Piero, Baggio, Pirlo, i dieci che volete voi, il regista bravo come Pirlo, ma non può essere quella roba lì. L'Italia non può essere quella roba lì, quindi qualcuno ci dovrebbe dare delle spiegazioni. Probabilmente chi ce le dovrebbe dare? In primis Spalletti, secondo Gravino, c'è qualcuno, poi i calciatori. Anche se poi ci arriviamo, ieri un calciatore, soprattutto qualcosa, si è lasciato sfuggire. Quindi io vorrei capire insieme a voi, poi se avete voglia lasciate un commento, anche se ripeto questa sarà una cosa non tanto, non si parlerà più di calcio su questo canale. Però se vi va di lasciare un commento sarà gradito. Volevo capire insieme a voi il perché, il perché di questa disfatta. Cioè perché un conto è giocare in mano, un conto è giocare così. Un conto è non giocare, un conto è non scendere in campo, un conto è avere quel tipo di atteggiamento che l'Italia ha avuto. Che è un atteggiamento imbarazzante, imbarazzante per chiunque, anche per chi non ha mai visto una partita di calcio, perché sembrava veramente una squadra del Serie A contro una che gioca senza offesa nell'interagionale. Diamo qualche pagella senza dare i voti. Allora, tutti bocciati, a parte a Donna Rum, promosso a pieni voti, anche qui però c'erano delle critiche, non c'era qualcuno che lo criticava. Come si fa a criticare a Donna Rum? Vabbè, questo è un altro discorso, è un altro parentesi che non ne apriamo neppure. Poi direi, Calafiori quando ha giocato, ieri purtroppo non c'era, ottimo, bastoni, sufficiente. Tutti gli altri, secondo me, molto, molto, molto al di sotto della sufficienza. Ripeto, io non sono un youtuber di calcio, quelli che urlano fanno casino, non me ne frega niente. Vorrei solo capire insieme a voi cosa è successo e capire se siete d'accordo con la mia analisi, anche se parziale. Domanda 1. Giocatori come Barella, Scamacca, Pellegrini, lo stesso Raspadori, Di Marco, nelle loro squadre di club giocano assolutamente meglio. Sembravano degli zombie. Prima domanda, perché sembravano degli zombie? Erano bolliti? Spalletti continua a dire, mamma non avevamo la gamba, ma ancora non avevamo la gamba, li hai allenati te, li hai preparati te. È vero che hai avuto solo dieci giorni, ma hanno avuto dieci giorni anche gli allenatori delle altre squadre. È per questo che, lo ripeto un'altra volta, qualcuno ci dovrebbe raccontare che cosa è successo davvero nello spogliettoio, ma anche tra il primo e il secondo tempo, ma anche prima della partita, che cosa succedeva in ritiro. Cioè io vorrei capire queste robe qua, come è stato possibile presentare quattro prestazioni indecorose, vergognose, ma vergognose perché porti la maglia dell'Italia. Già se parti quella del tuo club e sei strapagato, sei straviziato, giri con delle auto favolose che una persona normale non si potrebbe comprare, neanche lavorando quattro vite, dovresti correre. Ma perché non correvano? Cioè, proviamo di rispondere a questa domanda. Perché non correvano? Ok, i giocatori non saranno dei fenomeni, ma nemmeno la Svizzera e il Brasile. E questo è il punto. E la Svizzera invece sembrava il Brasile. Ma non ci hanno fatto toccare praticamente mai la palla. Come mai? Veniamo al punto dolente. Donna Rumma, in realtà, nell'intervista qualcosa si è lasciato scappare. Ha detto, non c'è stata voglia di aiutarci. Ora, se questa cosa è vera, anche questa cosa andrebbe motivata. Ma motivata davanti a una nazione, non motivata davanti a me che sono qui a parlarne. Cosa vuol dire non c'è stata voglia di aiutarci? Perché? Perché nel calcio moderno, ormai lo sanno anche i bambini, se la palla è questa, ci devono essere tre giocatori intorno. Perché quello che ha la palla deve avere sempre almeno due opzioni. Questa roba qui Guardiola la faceva vent'anni fa, non mi ricordo, comunque col primo Barcellona. Cioè, invece l'Italia si trovava ad avere un portatore di palla e il giocatore più vicino a venti metri. È chiaro che la palla la perdi. In più, relatività zero, le seconde palle, ormai come vengono chiamate con questo lessico ormai tutto tecnicistico, che poi non si capisce più un cazzo fondamentalmente, arrivavamo sempre in ritardo. Come mai non ne abbiamo mai preso una? Perché probabilmente, come ha detto Donnarumma, non volevano aiutarsi. Ma perché non volevano aiutarsi? Questa è una domanda che avrebbe bisogno di una risposta. Vogliamo parlare un attimo dei moduli, ok, ha giocato a quattro dietro, poi è passato a tre, poi è tornato a quattro, poi è tornato a tre. Anche qui, secondo me, serviva un pochino più di coerenza. Ma non lo dico qui per fare il polemico, lo dico perché è la verità. Giocatori che sono abituati a giocare a tre, dovrebbero giocare a tre. Quelli abituati a giocare a quattro, dovrebbero giocare a quattro. Punto e basta. Poi, se tu li metti tutti fuori ruolo, già questi, se è vero quello che è, ha lasciato trappellare Donnarumma, non avevano voglia di aiutarsi, ecco, con il risultato, Secondo me non è un discorso di blocco Inter, blocco Juve, di blocco Milan, è un discorso che hanno fatto cagare tutti, tutti a parte i tre sopra citati. Non può essere normale, almeno secondo me non è normale. È per questo che sto facendo questo video ed è per questo che io vorrei delle spiegazioni da italiano e da uno che segue il calcio e da uno che tifa. Perché non si possono vedere quattro partite così orrende, così di merda, soprattutto le ultime tre. Ok, la Spagna c'è superiore, ma la Croazia potevamo giocarcela meglio. Alla fine, ragazzi, abbiamo fatto gol a 20 secondi dalla fine con una roba che ha fatto Calafiore da solo. Poi Zaccagni ha fatto il gol della vita, poi Zaccagni è anche bravo, secondo me è anche uno dei più bravi tecnicamente in questa squadra. Vogliamo parlare un secondo della paura? Ma non so, avete visto le facce? Sembravano tutti spiritati, anche quelli più navigati, quelli che hanno già giocato tante volte le competizioni internazionali. Sembravano tutti impauriti, avevano paura di che cosa? Di che cosa hai paura quando giochi in nazionale? Poi soprattutto se hai paura a non giocare. Cioè, dia il tuo allenatore che deve giocare in un altro posto tuo perché non hai coraggio. E poi perché avevano tutti paura? Tutti? Possibile? Ma schiamacca quanti palloni ha toccato quando ha giocato in queste partite? Non lo so, boh, cinque, sei? Non è accettabile, non è ammissibile. Altro punto ancora, questo l'ho sentito dire da alcuni commentatori televisivi e anche da alcuni youtuber che comunque io seguo, cioè Spalletti è sicuramente un buon allenatore ma non è un buon selezionatore, di questo bisogna prendere atto. Sono due lavori simili ma non uguali, capito? E Spalletti secondo me non è proprio adatto, nonostante abbia fatto benino all'Inter, abbia fatto benissimo al Napoli. Però lì li vedi tutti i giorni, qua li vedi una volta ogni morte di Papa e quando li vedi spesso questi sono già bolliti per il campionato, per le Coppe, eccetera, eccetera. Secondo me non li ha scelti bene, questa è una mia personalissima opinione, un tifo Bologna ma non portare via Orsolini che è uno che salta l'uomo, se hai chiesa in un momento di appannamento chi ci metti? Zaccagni che è un altro che è il primo uomo lo salta quasi sempre, lo ha usato col contagocce, anche io dovevo giocare a titolare. Ma non perché voglia fare il CT, semplicemente perché è quello più in palla degli altri, che sono proprio sotto il tavolo. Una cosa che mi ha fatto veramente incazzare ieri è stato che poi Spalletti è stato l'unico che non ha chiesto scuse, i calciatori hanno chiesto scuse, lui invece è arrivato lì sempre con quest'area, non avevamo la gamba, eh non avevamo questo, non avevamo quello, mi serviva più tempo, ma più tempo quanto Luciano? Sono 8-9 mesi che comunque li vedi, che comunque li hai visti anche a Coverciano, più tempo quanto? Cioè anche gli altri allenatori hanno avuto quel tempo lì. Poi giocare male è una cosa, non giocare, come abbiamo fatto noi per tre partite e mezzo, è un'altra, non giocare, non scendere in campo. E qualcuno ci dovrebbe spiegare il perché non siamo scesi in campo, arriveranno queste spiegazioni, io ne dubito molto, ne dubito, però le sto aspettando anche oggi stesso. E poi Luciano troppe chiacchiere, prima parla degli eroi, poi parla del fatto che ci spingeranno gli italiani, ma vi spingeranno dove? In campo ci andate voi. Eroide che? Cioè, hai capito? Torniamo a Berlino. E qui apriamo un'altra pagina, secondo me, bruttissima, di quello che è diventato il calcio. Cioè è diventato una roba da baraccone, sotto tutti i livelli, sotto ogni punto di vista. Perché i calciatori saranno pure montati, ma da chi sono montati? Va bene, da loro stessi, dai loro procuratori. Però non è ragazzi un fatto dei tatuaggi, è un fatto che tutto il sistema calcio ormai è diventato una roba, capito? Che questi qua sembrano veramente di gladiatore. Se voi guardate anche i trailer che preparano le partite, guardate quelle di Sky, guardate quelle di The Zone. Cioè questi non sono, sono ragazzi che giocano a calcio, invece vengono presentati come il salvatore del pianeta. Non lo sono, sono semplicemente dei ragazzi molto spesso viziati, e questo lo si sa, questo in tutti i club, e questo è quanto, e questo è il risultato. Il problema è che dovrebbero essere viziati anche agli spagnoli, che però ci umiliano, i croati che però meritavano di passare, detta come va detta, e persino agli Albanese giocavano a nostro livello, ripeto, senza offeso per il calcio albanese, ma il calcio albanese non ha una tradizione come la nostra. Sky e The Zone ormai presentano le partite come se fossero delle guerre mondiali, non è così, cioè non è così che dovrebbero fare, capito? Poi lo so che loro devono vendere abbonamenti che tra l'altro sono carissimi, però non è così che dovrebbero fare, perché si finisce per montare e esasperare un teatrino che non è più un teatrino. Ormai è una roba, insomma, si è passato il segno, si è passato il limite, secondo il mio personalissimo ed umilissimo giudizio. Poi anche questo modo assurdo di commentare le partite tutte alla Guido Meda. Guido Meda ha delle grandissime responsabilità su tutto questo, a parte che poi lui commenta la MotoGP, dove veramente i piloti rischiano la vita da ogni curvo. Ma qui, non lo so, c'è il telecronista che urla per un passaggio laterale di due metri. Io quando sento Piccinini, che secondo me è il più bravo, commentare le partite di Champions su Prime, cioè mi sembra, dico cazzo bravissimo, però mi sembra di aver preso 20 gocce di Valium, perché non sono più abituato ad ascoltare uno che commenta in una maniera normale. Stiamo parlando di una partita di calcio, di uno che passa la palla lateralmente a tre metri. Semplice, no? Perché urli? Cazzo urli. Quando sento Caressa, che introduce le partite come ieri, con un pippone, con uno spiegone assurdo, come se stesse parlando dello sbarco in Orlandia, cioè a me scappa da ridere, o piuttosto da piangere, capito? E poi dopo tutto il teatrino, i commentatori tecnici, ma se siete così bravi, ma perché non fate voi gli allenatori? Invece venite lì, tra l'altro parlate un italiano imbarazzante, sbagliate tutti i congiuntivi, cioè non avete un vocabolario in grado, cioè forse avete un vocabolario calcistico, e poi tutta sta roba, cioè nel posto giusto, con i tempi giusti, la lettura, ma che cazzo lettura? Questi ma cos'anno leggere? Non leggono neanche Pinocchio come libro. Lettura di che? La lettura. Si sta esagerando. Cioè quando vedo a Dani che fa il teatrino, fa il filmino dell'avanzata di Calafiore, da un benzinaio, dico ragazzi, ok lui sta vendendo il suo personaggio, fa benissimo a farlo, ma poi questi video vengono rigirati in rete, una volta, due volte, migliaia, milioni di volte. Cioè lui lo fa per avere delle visualizzazioni, ma forse questa roba andrebbe stoppata, andrebbe un attimo fermata. Non si tratta solo di imparare i fondamentali qui, capito? Si tratta veramente di rallentare un attimo. Altro punto bisogna azzerare, bisogna ripartire, ok ma da dove ripartiamo? Io direi assolutamente senza gravina, perché questo qui ha cannato due qualificazioni mondiali, due qualificazioni mondiali, l'altra volta abbiamo vinto nel romper solo Dio si accommano, qualche partita l'abbiamo anche giocata bene, però ne abbiamo passato due rigori. Va bene, va bene tutto, direi comunque senza gravina, e poi anche senza Spalletti, perché comunque Spalletti ha dimostrato di essere un ottimo allenatore da club, ma non giusto per una nazionale di calcio. Chi potrebbe venire, chi potrebbe arrivare? Forse Allegri? Non lo so, Allegri non mi sembra che stia passando un momento felicissimo dopo quello che è successo alla Juventus, anche con questa sorte che è stato licenziato per giusta causa, poi dopo si sono accordati, hanno patteggiato, sicuramente per una buona uscita. Non mi sembra Allegri quello più giusto, però non saprei che nome proporre, sinceramente, anzi forse un nome ce l'avevo, che era Antonio Conte, però lui se c'è già messo di ricordo con De Laurenti, si allenerà a Napoli. Forse con Conte questi qui avrebbero fatto diversamente, capito? Ecco, ha allenato l'Inter, e io ho visto che quando è arrivato l'Inter comunque certe cose poi sono andate immediatamente a posto. Può non piacere, sicuramente è un allenatore che non dura nel lungo periodo, perché il giocatore li spreme come dei limoni, però comunque con lui le squadre almeno corrono e si impegnano. Ultima considerazione, molto probabilmente oggi, 2024, il calcio è uno sport sopravvalutato, in cui girano tantissimi soldi, è in mano praticamente ai procuratori, o almeno questo sembra, però è uno sport sopravvalutato. Se voi guardate altri sport, noi in questo momento come Italia stiamo vincendo un po' dappertutto, abbiamo nel tennis, vabbè, sinner su tutti, comunque un movimento fortissimo, nell'atletica abbiamo vinto agli europei tantissimo, stiamo facendo benissimo, vinciamo comunque anche in altre discipline, pallavolo, scherma, cioè siamo comunque molto competitivi, nuoto, cioè siamo competitivi ovunque nel calcio, bisogna prendere atto che non siamo competitivi, bisogna secondo me dare una forte ridimensionata, come? Non lo so, ditemelo voi, però io credo che sarebbe il caso di dare proprio una fortissima ridimensionata, perché questi qui secondo me sono usciti di testa, e non è solo un fatto di tatuaggi, perché i tatuaggi ce li hanno anche gli altri, è proprio un fatto di mentalità, non si può vedere uno spettacolo come quello che abbiamo visto in questi giorni a questo europeo. E chiudo veramente con una frase che è uscita ieri, io ieri l'altro, non mi ricordo, che ha detto Ronaldo, il fenomeno, Ronaldo non cristiano, quello, insomma, quello che secondo me era ancora più bravo, e ha detto, io il calcio, faccio molta fatica a guardarlo oggi, mi annoia, perché ci sono poche occasioni da gol, c'è molta tattica, poche roba, io guardo il tennis, anche se la partita dura 5 ore, da terratto a un cretino, se lo dico io, magari non funziona, capito, potrebbe essere una boutade, ma se lo dice lui, Ronaldo il fenomeno, può essere veramente che il calcio sia arrivato a un livello di saturazione totale, questo per colpa di chi? Certo non per colpa mia, certo non per colpa dei tifosi, che pagano abbonamenti, pagano biglietti, e fanno di tutto per seguire la loro squadra del cuore, ma anche la nazionale, secondo me è tutto il sistema calcio, che secondo me sta saltando per aria, poi non lo so, ripeto, io non sono un veggente, non ho la sfera di cristallo, però c'è qualcosa che oggettivamente non torna, e l'Italia, l'Italia, mi dispiace che sia stata proprio l'Italia, però, a dare questo cattivo, terribile esempio, anche proprio di scarsissima professionalità, perché comunque questi giocatori sono strapagati, nelle loro squadre di club, sembrano una cosa, quando hanno indossato la maglia della nazionale, con quattro stellette, invece, sono diventati improvvisamente degli agnellini, qualcuno, ripeto, come ho già detto, è la terza volta che lo dico, qualcuno ci deve delle spiegazioni, speriamo che arrivino, se mi avete seguito fin qui, nonostante non abbia parlato di musica, vi ringrazio, se avete voglia, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per le notifiche, eccetera, 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 e poi, insomma, speriamo di vedere veramente un'Italia diversa, perché questa roba qui, io non la voglio più vedere, ma credo nemmeno a voi. Ciao.